tutti carichi ecco il grido di battaglia il castellino che fa, rucisce! 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 rucisce! e cosa facciamo? ruccemo! alle casacche sta qua prendi i necessari chi sta in panchina chi sta in panchina ho la casacche si fa lo freschetto eccole tra pochi secondi c'è l'entrata in campo delle due formazioni per la settima giornata del campionato provinciale categoria giovanissimi adesso ci prepariamo a fare innalizzazione